attenzione sua maestà il re e imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo primo ministro e segretario di stato presentate da sua eccellenza il cavaliere benito mussolini e ha nominato capo del governo primo ministro e segretario di stato sua eccellenza il cavaliere maresciallo d'italia pietro badoglio